Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a For Honor perché c'è un argomento interessante di cui parlare. Voi sapete che io torno sempre quando ci sono cose che meritano una menzione, una chiacchierata. In questo caso parliamo dei tornei e non della modalità tornei che vi avevo anticipato sarebbe arrivata su PC nei test server di Ubisoft bensì di un vero e proprio torneo ufficiale che Ubisoft ha inaugurato anzi inaugurerà oggi praticamente perché partirà oggi 8 luglio e si protrarrà fino alla finale del 12 agosto. Allora come funzionerà il tutto? Essenzialmente ci saranno dei round di qualifica che troverete nel link che trovate in descrizione potrete iscrivervi, segnarvi insomma il giorno in cui dovrete giocare, incontrare i vostri avversari e tentare di qualificare della gran finale che si svolgerà per l'appunto il 12 agosto e che avrà come premio finale ben 10.000 euro. Per cui parliamo di un Montevremi tutt'altro che limitato che dovrebbe ingolosire più di qualcuno. La domanda però è considerando i ben noti problemi di matchmaking i ben noti problemi di stabilità di alcune sfide che si hanno spesso e volentieri vi immaginate che delirio saranno queste fasi di qualifica? Io ho tentato di iscrivermi nonostante sia una persona veramente improponibile a questo gioco non è che, insomma, sapete che non sono tutto sto talento ma quantomeno per farmi due risate mi sono iscritto ma credo onestamente che sarà un massacro credo che su Reddit scoppierà il delirio la gente si insulterà ancora peggio di quanto non accade adesso la gente spammerà tutte le cose più spammabili che ci sono insomma credo che sarà un po' un raschiare il fondo del barile e non so se era veramente il momento adatto per lanciare un'iniziativa di questo tipo anche perché ne hanno parlato poco l'hanno lanciata lì pronti via nel senso si sa da due giorni e le qualifiche appunto partono oggi per cui non... è stata una cosa per dirla alla romana un po' cotta e mangiata a dispetto di quanto magari uno si aspettasse per questo tipo di iniziative però resta il fatto che Ubisoft sembra crederci molto hanno messo in palio un premio appunto di 10.000 euro per cui si spera che le cose vadano bene anche perché e qua mi baso su racconti indiretti di molti di voi sembra che la modalità torneo non sia stata proprio il successo che molti auspicavano per cui toccherà vedere un po' cosa accadrà io sono curiosissimo di vedere cosa succederà soprattutto in queste fasi di qualifica più che nella finale vere e prove quella sarà di persona in un luogo non meglio precisato in questo momento non mi ricordo ma mi sembra fosse in Germania per cui non ci saranno chiaramente premi di sorta ma giocato online voglio ride per dirla proprio però insomma adesso intanto facciamoci la solita partitina intanto che ne parleremo un po' e vediamo allora ci troviamo subito di fronte a un bel giustiziere sperando che non ci lanci ah ecco perfetto bene con la forza del pensiero ti ho fatto a pezzi sono tutti bot sono usciti tutti perché sono usciti tutti vabbè ho lo sguardo che uccide dove sono tutti amici tu che sei di là che stai tentando di resuscitare il bot vabbè l'unica speranza è ma eh porca caccia la miseria nooo nooo non mi avrai ok l'ho ripresa un attimo di calma no un attimo di calma e sangue freddo l'abbiamo giocata non male di più niente vabbè eh eliminato da uno che si chiama sugo pronto diciamo che il sugo pronto sono diventato io in questo caso ma dopo un primo round abbastanza caotico e confusionario adesso cercheremo diciamo che l'abbiamo persa per il fatto che mi sono allontanato dal cadavere del bot quello ha dato modo di di riprendersi un po' oh sugo pronto carissimo se fosse una volta che riesco a fare contro spezza guardia io quanto sto giocando male oggi niente non c'è soluzione di continuità in questi casi mamma mia che figura vabbè eh che tocca fare lo sapete io mi cimento con tanta passione ma scarsa abilità per cui posso far poco confido nei miei compagni di squadra anche se il sugo pronto è una sorta di killer di guirli alla Ted Bundy eh vabbè comunque tornando un po' al discorso che si faceva prima io mi auguro che questo torneo possa andar bene non tanto per il fatto in sé quanto piuttosto per ciò che significherebbe un torneo andato bene in questo momento perché alla fine se ci immaginiamo la cosa ehm scusate un attimo ok se ci immaginiamo la cosa un torneo andato bene darebbe una risonanza mediatica al gioco di cui c'è terribilmente bisogno in questo momento e di conseguenza si potrebbe anche sperare in un rilancio e nel desiderio da parte di Ubisoft di far qualcosa di concreto vabbè ma fai poco il coatto se poi usi usi altro stavolta me l'aspettavo lo spezza guardia ma non è servito comunque vabbè con questo non ce n'è oggi proprio non ce n'è questo sugo pronto e stavo appunto dicendo per quello che potrebbe significare perché comunque se ci immaginiamo un eventuale successo di questa di questo torneo ufficiale con tutto ciò che ne conseguirebbe ovvero notizie sui siti internet nuovi giocatori che desiderano tornare perché hanno visto qualcuno vincere i soldi insomma avrebbe un effetto benefico se e sottolineo se dovesse però andar bene perché parliamo sempre di quello alla fine facciamocene un'altra per una volta ne facciamo due perché comunque in linea di massima sono eventi che possono un po' sancire la rinascita o la distruzione di un progetto se vogliamo già in difficoltà se consideriamo quell'aspetto lì appunto For Honor è un gioco che già ha stentato un po' in tanti versi adesso diciamo che si è un attimino stabilizzata la situazione perché abbiamo da una parte alcune cose che non vanno alcune cose che dovrebbero funzionare meglio ma in linea di massima le cose più gravi sono state risolte di conseguenza se dovessero giocarsi bene le loro carte in questo momento e magari anche sbrigarsi a far uscire qualcosa di nuovo perché capisco che i nuovi contenuti siano previsti alla fine di ogni stagione ma magari anticipare un po' fare una sorpresina al pubblico non sarebbe poi una brutta idea per cui facciamo col centurione va che me lo chiedete spesso perché non torni sul centurione ecco rifacciamo però diciamo appunto tutto dipenderà dall'organizzazione di Ubisoft e tutto dipenderà fondamentalmente dall'impegno che Ubisoft ci metterà perché comunque l'utenza ormai largamente è andata via ne è rimasto uno zoccolo durissimo tra cui il sottoscritto per quanto riguarda l'Italia se considerate appunto sono tipo credo uno dei pochissimi rimasti su youtube che fa ancora video su questo gioco ma non mollo perché comunque è un prodotto in cui credo un prodotto in cui nonostante i tanti problemi nonostante la mia scarsa abilità mi diverto a giocare per cui diciamo che confido nella sua eventuale se spera prima o poi definitiva rinascita con tutto ciò che ne conseguirebbe chiaro io come poi diciamo spesso anche con parecchi di voi credo che la chiave sarebbe il non andare tanto per il sottile nel senso se Ubisoft perdesse un attimino quest'aura di finta perfezione e decidesse di far uscire contenuti come se non ci fosse un domani del tipo un eroe ogni mese nuove mappe su base mensile e comunque nuove cose che possono in qualche modo invogliare i vecchi giocatori a tornare invogliare i potenziali nuovi acquirenti a entrarci per la prima volta e chi già c'è a rimanerci non farebbero un soldo di danno è chiaro che però se ogni cosa fanno finta di bilanciarlo perché poi arriva qui ed è palesemente sbilanciato per due mesi allora tanto vale lanciare tutto in un calderone e vedere come va perché centellinare l'uscita di nuovi contenuti se poi tanto questi nuovi contenuti non c'è mai modo di farli entrare come si deve perché non c'è nessuno che ci gioca dai dai nooo il liscio della morte nel momento più inadeguato sono morto no ma lisciato mamma mia che fortuna no è mio la voglio finì io maledizione eh su dov'è l'ultimo ahà vado a scendere dai che forse due contro uno oh no è sempre coso niente se non ci fosse se non ci fosse una volta che gli riesco a fare un conto spezza guardia è una cosa schifosa veramente una cosa schifosa sto massacrando il tasso dello spezza guardia e non ce se riesce sbaglio sempre il tempismo è tipo la mia nemesi eterna sto sugo pronto c'è poco da fa è bravo io sono uno che ammette non dicevo che gira intorno è bravo adesso fa anche il finto corretto dai su intanto non ce la fai è inutile continuare purtroppo era drammaticamente scritta anche qui comunque la cosa che ci tengo a dire è che i miglioramenti a livello di matchmaking e di stabilità sono ormai evidenti sono diversi video che faccio diverse partite che ho fatto da solo e se appena volta riesco a fare una kill a questo ma la vedo la vedo amara è bravo io non sono abbastanza rapido per far una botta d'ho data la chiave sarebbe fargli perdere la calma è una parola con uno del genere no no non gliela farò mai l'unica sarebbe buttarlo giù ma adesso adesso stavo veramente spaccando il tasso della proiezione ma vabbè non ce n'è non ce n'è non gliela faccio con questo non gliela faccio ci provo ci provo ma non gliela faccio ti prego si sono tornato mamma mia che rischio mi sono immolato ma va bene così va bene così andava bene così prima che ci violentassero tutti quanti in gruppo mamma mia che scena brutta che scena brutta finita veramente come peggio non poteva finire siamo stati brutalizzati in un angolo tutti in coro vabbè questo lo sfondo forse l'ultima cosa che faccio a questo lo sfondo no ma porca miseria ma ma che ma che presa male che sfondo no mi sono incastrato maledizione niente ce la fate a farci finire lo scontro uno contro uno ce la facciamo ma che cosa niente è partito da solo il coso io non ce la voglio credere perché mi ha fatto l'abilità che non l'ho minimamente chiamata vabbè succedono cose strane oggi vabbè ragazzi io ci ho provato ma oggi è stata una giornata abbastanza sfortunata devo dire a livello di rendimento per cui ci accontentiamo detto ciò niente io aspetto di sapere cosa avete pensato voi riguardo a questa questione del torneo vi ricordo che trovate il link in descrizione per potervi iscrivere voi stessi a questo torneo per cui fatemi sapere se avrete modo di farlo e se si come vi andranno le cose detto ciò ragazzi niente vi ringrazio come sempre avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima ciao ragazzi